Perché Gemma non ha nessuna caratteristica che a me può suscitare in via, perché? Allora è una donna realizzata, no, perché è una donna di ricerca, no adesso le dico tutte, guarda, allora perché è una donna che arriva alla sua età, che è veramente, cioè, c'è invidiosa di cosa? Allora Maria Mura che cosa invidia nella vita? Può invidiare la bellezza che non ha, la giovinezza che non ha, c'è una donna che può invidiare una donna. Che cosa, Maria, io vorrei vedere il giorno che si spengono queste luci, la signora Gemma Galgani, quanti uomini vanno sotto casa a corteggiarla, ma neanche il parroco della città se la ricorda, ecco qual è la verità. Qua dentro, qualsiasi donna ci metti, anche un'ultraottantenne verrebbe corteggiata, perché comunque la televisione ha questo potere. Mettila a casa, mettila al cinema da sola, vediamo quanti baldi giovani li vanno sotto, ma svegliati, ma chi la vuoi dare a bere? Grazie. Grazie. Grazie.